Allora, racconta la parzelletta triste. Allora, quella è la stampa quella del cinese. Ah, del cinese? Ah, quella è bella, ragazzi. Dai, vai. Allora, poi questo ci ha fatto il film Verdone, ci ha fatto. C'è un cinese in coma, chi che la sa? Beh, il film l'ho visto, non mi ricordo come diceva. Allora, c'è un cinese in coma, ci sta un carabiniere che mi dà la macchina, passa l'incrocio, che è verde, dall'altra parte viene un'altra macchina, che non rispetta il semaforo, e insomma vanno a sbatte, e quell'altra macchina insomma è danneggiata fortemente, il carabiniere di corsa va a vedere come sta quell'altra persona che insomma ha fatto l'incidente, apre la porta c'è un cinese che sta steso sulla macchina, insomma sanguinante, colorante, e che non dice una parola, no? Insomma, allora si spaventa tantissimo, il carabiniere viene l'ambulanza, il cinese lo porta in un ospedale e va in coma, proprio c'è un cinese in coma, no? E quello tutti i giorni il carabiniere sta lì fuori e aspetta che si risveglia il suo cinese, insomma in modo tale che il cinese spiega che il carabiniere non c'entra niente, che la colpa è del cinese che non ha rispettato il semaforo, e insomma aspetta il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, non si risveglia mai, finché il settimo giorno finalmente il cinese si risveglia. Allora come si risveglia il carabiniere corre verso il cinese, e lì dove stanno tutti i macchinari, le cose, e subito ansioso gli fa agli e gli dice, oh dai per favore spiegalo, spiegalo, dillo a tutti che io non c'entro niente, che tu sei passato col rosso. Quello il cinese lo riguarda e gli dice, cingu tangu micu, che vuol dire? cingu tangu micu, spiegati meglio, spiegati meglio. Quello il cinese lo riguarda un po'. cingu tangu micu, ma che vuol dire cingu tangu micu, che vuol dire? spiegati meglio, spiegati meglio. E quello con un filino di voce proprio gli dice, cingu tangu micu, e muore. Quello il carabiniere è tutto disperato, oh mio Dio, come faccio, come faccio? insomma, disperatissimo, va esci dall'ospedale, comincia a camminare a zonzo, disperato, insomma, c'è paura di che si do proprio le colpe dell'incidente. E a un certo punto vede il ristorante cinese, come vede il ristorante cinese, entra là dentro, tutto per dritto, e va dal cuoco, no? E gli dice, oh scusami, scusami, che vuol dire cingu tangu micu? Quello, il cuoco cinese lo riguarda e gli dice, ma no, la cosa slana? Ma perché? Che vuol dire? che significa leva il tuo piede dal mio tubo di ossigeno. Vedete la gamma? Trista è bella questa cosa. E lui dice che è triste, non è triste, è bella. Perché dai? Ma perché? Però è bella, è bella? Aspetta, aspetta, sbagli chiude che... E...